Senz'altro la risposta immediata è sì, c'è una necessità di formazione del quadro sindacale, una formazione che permetta di comprendere, intercettare ma soprattutto poi dare risposta concreta. Qui mi riaggancio a quello che diceva anche Agostino e Mario stamattina. Io ho un esempio molto concreto di lavoratori di nuova generazione, sono i lavoratori che in Unicredit e mediamente molto giovani, adesso è il luogo di prima destinazione nell'assunzione, nella gran parte delle assunzioni per la rete, svolgono consulenza da remoto, si chiama Unidirect, sono quelle persone che vi rispondono al telefono quando avete necessità per esigenze di bonifici, piuttosto che altre operazioni tipiche bancarie, ma anche di consulenza su investimenti. Da parte di questi lavoratori emerge, passato un primo periodo in cui devono ambientarsi, emerge un grosso bisogno, una grossa richiesta di rappresentanza, perché sono molte volte anche in situazioni nelle quali il loro livello retributivo è mediamente ovviamente il livello di ingresso basso. In molte occasioni ci troviamo di fronte a lavoratori che lavorano a centinaia di chilometri dalla propria residenza e dal proprio luogo di nascita, quindi hanno tutta una serie di esigenze che vanno anche da quelle che sono poi le attività tipiche di rappresentanza del sindacalista fin dall'albori, cioè busta paga, rispetto dei turni, rispetto e riconoscimento delle indennità, rispetto delle pause a cui hanno diritto in una digitalizzazione del servizio che ormai è molto simile nei vari call center. Poi se uso questo termine con l'azienda vengo immediatamente bloccato perché non si tratta di call center ma sono centri di consulenza, però sono normati da sistemi digitali, la barra elettronica che prevede la registrazione degli stati e poi tutto quello che riguarda il controllo della loro attività. Su questo sono molto sensibili i lavoratori e quindi questo tipo di necessità va intercettata, va capita e quindi bisogna avere una preparazione per comprendere esattamente anche la modalità di relazionarsi con questi lavoratori e con i loro bisogni. E questi sono bisogni che, se vogliamo, sono proprio quelli della strumentazione tipica del sindacalista, cioè la busta paga, gli effetti, le pause, il controllo. Devo dire che nel nostro gruppo abbiamo avuto da subito grandissima attenzione rispetto a questo segmento, per cui siamo arrivati con difficoltà ovviamente, ma una serie di accordi di tutela, per esempio su quello che è il riascolto delle telefonate, perché come sapete occorre. Questi sono elementi che i lavoratori valutano molto, molto positivamente. Poi ovviamente le loro domande sono anche domande di rappresentanza rispetto e di tutela rispetto anche a una condizione di sviluppo professionale. Quindi bisogna anche essere in grado di poi lavorare per capire e fare capire a loro qual è il mondo della banca altro e quindi la loro prospettiva di sviluppo, di crescita, di trasferimento, perché poi adesso c'è una multipolarità di questi centri di consulenza. Però, torno a dire, molta della popolazione proviene dal sud Italia e quindi c'è anche questa necessità. Questi lavoratori dopo un certo periodo andranno in filiale. Ecco, qui chiaramente bisogna poi aiutarli a capire qual è la loro esigenza, anche dal punto di vista formativo, per quello che è un lavoro assimilabile, ma diverso, perché poi magari direttamente a contatto con le persone fisicamente. Quindi questo credo che sia un elemento sul quale anche il sindacalista debba formarsi. Dico un'altra cosa, opportunità e criticità, e poi mi taccio. Ascoltando l'intervento di Enrico, siccome questo processo di investimento massiccio nella digitalizzazione, ho ascoltato quello che riferiva a lui, ma è un po' quello che succede nelle altre banche, nel mio gruppo si investono 900 milioni per 4 anni, 3 miliardi e mezzo, un investimento enorme che vanno in parte per le spese regulator, cyber security e innovazione. Belice ha una risposta da dare ai lavoratori, sia ai lavoratori mediamente adulti, diciamo così, io sono un 55enne e quindi uso questo termine elegante, che ai giovani, che lavorano in quei settori technology, perché bisogna scontrarsi contro le scelte strategiche dell'azienda. Cioè l'azienda vuole il cotto e mangiato, cioè quegli investimenti molte volte li fa approvvigionandosi con appalti esterni, per capirsi, comprando prodotti all'esterno, da software house, medio, piccole o grandi. E però noi abbiamo una popolazione di colleghi IT, quarantenni, quarantacinquenni, che avranno ancora molto da lavorare e che hanno bisogno, e ci chiedono, di essere aggiornati. Cioè non vogliono fare i project manager di prodotti acquistati all'esterno, vogliono essere aggiornati banalmente. Alcuni sono ancora, diciamo, posizionati su COBOL. Cioè sembra, ma anche passare agli nuovi linguaggi, Java, vogliono capire, vogliono essere formati sulle app mobile. Quindi questo è un elemento che richiede per noi una sfida rispetto alle scelte strategiche dell'azienda. Cioè investire sul patrimonio interno, quindi sulla formazione, una formazione continua, perché il mondo IT richiede una formazione continua, sia di chi ha una certa esperienza, una certa età, ma anche dei nuovi assunti. Perché? Perché sui nuovi assunti invece c'è un pericolo enorme. Cosa ci chiedono? Di essere formati ed essere sul pezzo. Perché oggi chi entra, e con quelle professionalità IT, non ha più l'idea della banca che avevo io, per dire, ma neanche di chi è entrato vent'anni dopo. Cioè loro vogliono essere formati. Infatti c'è un grosso problema di turnover, di dispersione. Cioè questi ragazzi ci dicono, ma a me, hanno fatto un colloquio, che sembrava che dovessi progettare i razzi che vanno sulla Luna, e vengo qui e continuo a fare foglie Excel e foglie Pilot. Io ho fatto uno stage di sei mesi alla Microsoft, sono stato negli Stati Uniti, e qui adesso io in sei mesi ho un curriculum che mi si è svalutato. Questa è una grossa sfida. Come rispondere? Quindi è una nostra sfida di rappresentanza rispetto a questa richiesta, sfidare l'azienda rispetto all'in-house, o acquistare all'esterno, oggi sono molto più sbilanciati. La formazione continua è formazione certificata, sia per chi ha un'età media, posso parlare ancora di 35 anni, 55 anni, ma anche per questi giovani, perché ci sono dei talenti che vengono dispersi. Quindi una formazione continua certificata e che dia loro delle risposte degli strumenti certi utilizzabili.